ciao a tutti anime bentornati qui su quinta dimensione letture un saluto a tutti quanti voi grazie di essere sempre qua alle anime che sono qua affettosamente sempre da tanto saluto gli studenti chi fa percorsi con me ogni ogni mese diciamo anche più di una volta al mese saluto tutti quanti davvero un ringraziamento forte anche agli abbonati che sostengono messo in mente in canale ogni mese grazie davvero di questo sostegno ricordo chi vuole può fare l'abbonamento al canale per avere una o due volte al mese delle previsioni da giocare ovviamente si può disdire in qualsiasi momento non è vincolante saluto anche i nuovi fate l'iscrizione al canale e attivate poi la campanellina cliccando su tutte allora care anime chi vuole fare delle consulenze private può andare su quinta dimensione letture punto it che vuole fare la scuola di ascensione delle consulenze con me insomma private più particolari dei percorsi andate sul sito se avete delle esigenze particolari mi scrivete un'email che è indicata sempre lì sul mio sito leggete anche sotto la sezione contenuti perché ci sono delle cose fondamentali importanti per il cammino per la crescita di molti di noi quindi è importante sempre anche la parte di lettura oltre che la parte di video che c'è qua poi nella descrizione del video trovate comunque tutti i tempi delle letture che faremo oggi quindi potete andare direttamente la lettura che scegliete ma siccome faremo tre risposte con questo appuntamento mensile che è l'angelo express un video dove ci sono delle risposte dirette puoi fare anche tre domande perché farò tre letture quindi sei tre domande tre situazioni diverse puoi andare direttamente a scegliere insomma la 1 metti una domanda nella 2 un'altra domanda nella 3 un'altra domanda se non è proprio una domanda specifica pensa ad una situazione ad una cosa che devi sbloccare di cui vuoi sapere qualcosa anche se non è precisa la tua domanda il tuo pensiero però pensa a quella cosa va bene cari anime e nella descrizione del video trovate sempre tutti i link per acquistare gli oracoli che tre o io le tovagliette ci sono tanti accessori che vi possono piacere tutto nella descrizione del video allora partiamo quindi pensa se vuoi fare una due o tre domande e queste sono le nostre scelte di oggi andiamo con le farfalle oggi allora la prima farfalla è arancione quindi la prima domanda o situazione sarà per l'arancione numero 1 numero 2 azzurra blu numero 3 gialla metteremo sia la risposta diretta dell'angelo metteremo anche un consiglio poi una pagina a caso tra virgolette del libro degli angeli vediamo che cosa ti viene fuori come consiglio che può essere associato o alla domanda che hai fatto oppure no deve essere proprio una cosa che ti deve arrivare in quel momento scegli pure faremo le carte al momento mischerò al momento un bel respiro lettura numero 1 eccola qua la nostra farfalla arancione quindi diamo la risposta il consiglio e poi una pagina del libro degli angeli per te partiamo pensa a qualcosa intensamente o puoi fare una domanda proprio precisa questa si è spostata avete visto si è spostata proprio da sola immediatamente qui abbiamo si vede fretta di una risposta allora intanto facciamo la risposta poi facciamo l'altra carta vediamo cosa ha voluto rispondere di pensare positivo ti ha detto pensare positivo quindi c'è qualcuno che si è affossato un po dentro i suoi stessi pensieri quindi non va bene dobbiamo metterci sopra una nota diciamo positiva devi mantenere un atteggiamento ottimista la realizzazione dei tuoi desideri sta per avere un'accelerazione molto positiva ecco qua la risposta sta accelerando anche se ancora tu non lo vedi e mantenendo un comportamento gioioso e fiducioso rendi più rapido il concretizzarsi dei tuoi sogni può sembrare che ci voglia molto tempo perché i tuoi progetti diventino reali ma molto presto vedrai un cambiamento non perdere le speranze proprio adesso che la realizzazione dei tuoi sogni è così vicina questo è un caloroso bellissimo abbraccio d'amore un abbraccio di luce dei tuoi angeli e dice proprio adesso no non devi mollare anche se ancora non vedi una soluzione per questa cosa che hai chiesto che stai pensando che sia una domanda che sia una situazione sappi che si sta lavorando dietro le quinte ci sono i lavoratori come si dice invisibili va bene quindi sappi che c'è qualcosa che sta arrivando è molto vicina e ci sarà un'accelerazione proprio di questa cosa direi che è fantastica molto bene andiamo con un altro consiglio e poi mettiamo il libro che cos'altro ti può essere risposto adesso la lettura numero uno la farfallina farfalla arancione vediamo se è in attinenza con la tua situazione oppure un'altra cosa che devi sapere vediamo un po ecco qui chi c'è e che cosa vuole dire l'arcangelo raffaele qui abbiamo un bel tre ecco guardate hai motivo di festeggiare cerchi agli amici lieti annunci che riguardano relazioni oppure i figli eccetera eccetera poi ognuno la sua ricorda un collettivo quindi prendete quelle pinze sempre tutto quanto dovuto distacco critico un salano di stacco critico però c'è una cosa è sempre valido quindi quando lo trovi anche te lo ripropone youtube fra tre anni non importa va sempre bello allora vediamo un po raffaele raffaele che cosa ti vuole dire con questo festeggiamento vediamo hai tutte le ragioni di festeggiare le tue speranze si realizzano ed è alle porte un periodo di riconoscimento pubblico e festeggiamenti se stai lavorando troppo trova il tempo per divertirti rilassarti o prenderti una vacanza quindi altro consiglio anche di amare volendo vedete che c'è il mare accogli e ringrazia le persone nella tua vita che ti amano e ti sostengono prenditi il tempo per sperimentare la gioia e la pace che derivano dall'avere un gruppo di amici stimolante quindi anche per chi magari è un pochino più solitario non per scelta diciamo così avrà anche magari delle opportunità di conoscere delle persone va bene essere coinvolti da gruppi di persone prosperità qualcuno avrà anche un annuncio di nascita di qualcuno di un matrimonio delle gravidanze pianificate con successo tutte queste notizie possono accadere e anche per alcuni per altri un miglioramento di salute in arrivo quindi vedi qual è la circostanza tua attivente alla tua vita ok sono belle notizie come ci ha detto prima l'angelo quindi teniamo duro non mollare adesso perché ce la facciamo bella questa risposta è bella positiva allora adesso concentriamoci chiede al tuo angelo le tue guide di farti arrivare il messaggio giusto per te qui e ora attraverso di me ama e ringrazia la natura per i suoi doni ecco un altro consiglio il contatto con la natura indispensabile perché dona armonia e beatitudine avvicina a dio e permette di elevarsi spiritualmente katele l'angelo dei giardini ti consiglia di amare il creato e di ringraziarlo dei suoi doni katele l'angelo è un angelo che si occupa proprio del verde dei giardini anche magari di casa tua o di posti dove tu magari vai a passeggiare queste cose qua e c'è bisogno ancora quindi se lo fai benissimo una grande conferma magari quando ci ritorni a camminare in quel posto chiama pure katele l c a t h e l e l l'angelo dei giardini amare il creato ringraziarlo dei suoi doni ripeto se già lo fai ok chi non lo fa sappia che c'è bisogno di questa aria di questa energia pura di quello che ti offre il mondo ritrovare quella quella diciamo quella bellezza dentro di noi come fossimo bambini quello stupore no di vedere una farfalla che vola sentire il vento sentire il fruscio delle foglie dei rami di un albero cioè quelle piccole meraviglie dell'universo del mondo questo manca tante volte qua ovviamente non a tutti chiaro però vedi dove ti riconosci in questa spiegazione ama e ringrazia la natura per i suoi doni qui ci vuole un pochino più di per alcuni contatto con queste energie pure tra l'altro anche amplificate perché c'è neanche di più vicino al verde di energia di luce cara anima vediamo questa era la prima tranche se hai altre situazioni e cose ci vediamo nelle prossime letture lasciami un mi piace al video iscriviti al canale e io vado avanti lettura numero due la farfallina azzurra blu azzurra vediamo prima la risposta pensa a qualcosa una domanda una situazione qualcosa che hai in testa vediamo la risposta poi le carte un altro consiglio per te e poi il libro degli angeli vediamo un po lettura numero due farfallina azzurra farfallina azzurra qual è la risposta per la farfallina azzurra qual è la risposta questa è la risposta vediamo sei pronto o sei pronta chiaramente vediamo cosa ti vogliono dire quindi qualsiasi cosa essa sia tu puoi farcela perché puoi farcela perché ti dice tutte le tue esperienze passate ti hanno condotto a questo momento hai studiato e si è cresciuto spiritualmente sotto diversi aspetti quindi abbiamo anche una conferma di questo tipo è ora il percorso è concluso quindi hai fatto una grandissima strada anima sei pronto per passare al livello successivo e accogliere la persona che nel profondo del tuo cuore sai di essere destinata a diventare il mondo è in ansiosa attesa del contributo che darai realizzando lo scopo della tua vita forse in questa situazione dovrai metterti davanti a tutto è ora di fare quello che è giusto per te ecco io mi soffermerei perché mettersi davanti a tutto è ora che tu pensi per te è il momento di quel sano egoismo di cui si parla spesso il mio canale della serie prima tu poi gli altri perché dobbiamo sistemare noi stessi anche per un dare un contributo migliore al mondo agli altri al pianeta inutile andarci con le ginocchia finite che aiuto diamo quindi pensiamo a noi al nostro benessere ad elevare la nostra luce per contribuire proprio con tutti quanti anche no nell'aiuto di questo pianeta qualsiasi cosa puoi fare dice che hai fatto già una grande strada sei pronta per questa cosa qualsiasi cosa essa sia ma ci devi come ti posso dire tu ti devi mettere dice qui davanti a tutto a tutto è ora di fare anche anche quello che è giusto per te non solo per questo per quello perché la situazione così per qua perché la per te per te che cosa è giusto per te questo ti sta dicendo comunque come risposta è un sì perché sei pronta cara anima quindi è importante qualsiasi cosa sia della tua vita questo è bello per questo questi questi video qua perché ti danno subito la risposta senza tanti giri di parole allora andiamo ancora avanti vediamo per la farfallina azzurra lettura numero due qual è il consiglio che quale arcangelo anche viene fuori qua vediamo un po farfallina numero due farfallina numero due azzurra vediamo cosa ti vogliono dire adesso qui alla farfallina numero due qui c'è san michele arcangelo anima infatti azzurra blu come san michele questa situazione non ti serve lascia andare all'attaccamento verso il risultato valuta di mantenere un approccio più edificante quindi per qualcuno c'è bisogno anche di un distacco diciamo così di un distacco positivo allora vediamo un attimo michele arcangelo michele fermati e pensa se le azioni che stai pianificando valgono il tuo tempo le tue energie potresti benissimo avere successo ma c'è una forte possibilità che alla fine non ci sarà molto da festeggiare chiede ai tuoi angeli se ci sono altre strade benificanti da seguire c'è molta energia negativa proveniente dalle persone coinvolte in questa situazione che non sono in armonia con la tua vibrazione l'arcangelo michele può aiutarti a spazzare via tutta questa negatività considera l'eventualità di lasciare andare il tuo attaccamento al risultato perché ti prosciuga troppo quindi anche qui caranima un po di distanza da qualcosa dovresti prendere no un pochino più distanti quello che qui ci sia stata c'è una un alone quad di controllo forse di manipolazione che hanno esercitato su di te alcune persone ovviamente sto parlando al collettivo e quindi se non è per te è per un altro è poi dice fai i piani più ottimistici anche se le cose non vanno come avevi sperato apprezza ciò che hai imparato e provaci ancora con le nuove informazioni a tua disposizione qui dice che qualcuno forse soffre anche molto spesso di pensiero un po negativo di spreco di energia e c'è bisogno di una maggiore consapevolezza di sé che si ritrova in questa lettura va di bene quindi a chiamare spesso anche l'arcangelo michele per farti allontanare magari hai già combattuto con queste persone che hanno portato energie negative ma sei ormai quasi alla fine perché dovresti ripulire chiedere quando arriva una carta così vuol dire che è il momento giusto per farlo quindi invoca tranquillamente chiedendo aiuto ok all'arcangelo michele che ti tolga anche questa negatività residua di persone magari che hanno manipolato che hanno usato bassi energie nei tuoi confronti quindi di tagliare definitivamente qua secondo me la 2 ha un grande cambiamento di vita perché anche quel sei pronto che ti diceva prima sei pronta è uguale diciamo è come per dire puoi fare questo salto puoi staccare da cose situazioni persone che hanno manipolato che hanno usato basse energie no e sei pronto per un salto di qualcosa ti dice qua perché hai fatto un percorso quindi ricordati sempre niente viene buttato via se hai fatto un percorso anche difficile che sia stato ma hai fatto un percorso per il quale carai ma sei pronta adesso è vediamo vediamo adesso che cosa ti arriva dal libro degli angeli chiedi alle tue guide tuoi angeli che ti arrivi il messaggio giusto attraverso di me vediamo la farfalla azzurra guarda si più sicura e lontani pensieri negativi come ti ha detto adesso proprio l'ultima carta che abbiamo preso di qua non sei il solo a essere tormentato da insicurezza e pensieri negativi la cui origine si pone probabilmente nel tuo passato e soprattutto nell'educazione che ti è stata impartita da genitori da insegnanti crogiolarsi nella negatività limita la riuscita nella vita e spesso porta a un costante malessere fisico chiama zarzagel l'angelo della saggezza per aiutarti a gestire le insicurezze del passato del presente e farti ritrovare l'autostima necessaria ecco qua qualcuno vi è proprio buttato giù ecco perché ti diceva sei pronta anima sei pronta per un qualcosa sei pronta per fare un passo un'evoluzione in te con le persone che ti hanno tirato giù e che ti hanno portato in basso nella tua vita quindi anche ecco per esempio qui parlava di malessere fisico cioè attenzione perché poi somatizzare tante cose negative che sono andate male o sconfitte o cose che ci hanno fatto del male eccetera poi porta ad un malessere anche fisico quindi anche più autostima qui è necessario lavorare anche sul terzo chakra ok terzo chakra colore giallo situato nello stomaco puoi lavorarci tranquillamente anche con la cristalloterapia uno dei cristalli migliori è il quarzo citrino quello color giallo per lavorare proprio sul terzo chakra visualizzazioni di giallo visualizzazione anche ma anche sentire il calore un caldo perché il terzo chakra va è un chakra che scalda è un chakra che bisogna è un chakra caldo si chiama quindi bisognerebbe sentire anche proprio il calore che c'è in quella zona per attivare appunto questo punto questo punto energetico proprio è cara anima per la 2 è così se hai un'altra domanda o situazione ascolta anche un'altra farfallina lasciami un like un mi piace a questo video iscriviti al canale e io vado avanti lettura numero 3 farfallina gialla facciamo anche per te cara anima la risposta se già magari hai avuto anche altre domande che hai ascoltato anche le altre bene qui siamo alla gialla vediamo la risposta dell'angelo un altro consiglio dell'angelo e poi il libro degli angeli un messaggio a caso che ti arriva vediamo un po farfalla gialla lettura numero 3 qual è la risposta andiamo a vedere subito la risposta è no la risposta della gialla è no allora attenzione perché non è che il no sono negativi la risposta alla tua domanda è un no secco tra l'altro non è un semplice no è un no secco in ogni caso stai tranquillo con l'andare del tempo capirai perché questa è la risposta giusta è qui che ti voglio qui c'è da capire poi come molte volte accade nella vita col seno di voi che era meglio no quindi un passo indietro stiamo tranquilli stiamo calmi non succede niente per il momento comunque è no è anche un no secco tra l'altro quindi pensiamoci bene perché a volte è meglio un no che un sì magari siamo convinti di una cosa testarvi per forza aspettare lì ma il momento magari non è sincronicamente divino e non è perfetto in questo momento quindi vuol dire che non è adesso questa cosa e data come dice qua perché qui ci sono due no in questo mazzo un no normale e un no con il punto esclamativo questo no qua col punto esclamativo è un no anche per parecchio tempo non è come l'altro l'altro è più soft dando anche una speranza questo no col punto esclamativo dà poche chance di questa cosa impariamo anche ad accettare quando le cose non sono e non vanno come noi desideriamo scusate che metto ecco quindi pensiamoci bene c'è un motivo grande dietro a questo no ok quindi no vediamo adesso che cos'altro ti dice insomma vediamo ce ne sono altre due quindi una qua e poi l'angelo vediamo che altre cose devi sapere farfalla gialla che cos'altro c'è da dire qua che sia in base alla situazione che chiedi oppure può essere un'altra cosa a cui tu non pensi magari però ti deve arrivare adesso eh lettura numero 3 farfalla gialla vediamo un po' cosa c'è allora soluzioni ecco arcangelo zacchiel zacchiel fiamma viola eh successo grazie a un giusto compromesso autocontrollo e pazienza energia di guarigione e del perdono qui c'è da lavorare ancora su di nuovo si sente molto forte questa cosa eh ancora lavoro ancora lavoro fiamma viola soprattutto trasmutazione karma chi c'è da fare eh l'arcangelo zacchiel quindi è un arcangelo che dovresti in questo momento invocare chiamare di più per essere aiutata Anna eh zacchiel lavora con te per trovare l'equilibrio perfetto la chiave per il successo adesso sta nella moderazione e nel compromesso vedi c'è c'è un'aria qui che non va se ti senti stressato questa carta ti consiglia di fare un respiro profondo e di chiedere aiuto ai tuoi angeli e alle tue guide ci vogliono autocontrollo e pazienza per creare il risultato di successo che speri vedi qui non è ancora pronta la cosa car Anna considera le idee degli altri anche e cerca di capire il loro punto di vista la diversità di pensiero può innescare un corso d'azione vincente ecco non è che sempre non essere d'accordo è negativo la riconciliazione di punti di vista divergenti è molto probabile ora se ti avvicini a tutte le parti coinvolte con un atteggiamento equo e incline al perdono qui c'è una lezione grande per te atteggiamento equo e inclina al perdono poi libera il vita per carità ci mancherebbe però c'è qualcosa in te qua che deve essere superato quindi mi raccomando abbia un approccio equilibrato perché sei una persona anche che se vuole sa organizzarsi molto bene trovare soluzioni creative se serve dice qua anche a scendere a un compromesso sano e ti dice un'altra cosa l'arcangelo zacheo è l'angelo della memoria può aiutarti a ricordare fatti o aspetti di situazioni che potresti aver dimenticato è anche l'angelo del perdono quindi invoca l'aiuto di zacheo quando hai bisogno di ritrovare un punto di vista equilibrato negli altri o nelle esperienze del passato qui siamo un po' fuori equilibrio è chiaro perciò c'è un lavoro di te molto grande qua che devi fare prima di arrivare alla soluzione non a caso la risposta era no qui c'è ancora un altro qualche altro step Anna qualche altro step tutto accadrà nel momento giusto quando sei pronta ok vediamo un po' adesso chiedi un consiglio chiedi che ti sia rivelato quello che ti deve essere rivelato qui e ora adesso cerca di capire se le persone sono quelle giuste per te incredibile di nuovo persone, cose, situazioni tendi a essere d'accordo con le persone solo se da queste puoi avere un tornaconto per esempio fare parte del loro gruppo ma poi ti risulta complicato capire se quel gruppo è quello giusto per te quindi non siamo troppo accondiscendenti Anna qua l'angelo Sharathiel ti può dare forza, coraggio, determinazione per fare delle scelte giuste e durature nel corso degli anni quindi qui non dobbiamo per forza essere sorridenti, carini eccetera perché hai bisogno che ne so magari sei una persona in solitudine magari hai bisogno di compagnia hai bisogno di avere delle amicizie delle persone ma non è che dobbiamo accontentarci non devi stare per forza con un gruppo di persone perché poi dopo dice qua ovviamente è un collettivo non è per tutti però poi dopo magari potresti avere delle difficoltà a capire se hai fatto bene magari poi ti penti pure di quelle persone qui serve più forza coraggio, determinazione fai scelte giuste e che possano anche durare come dice qua nel corso degli anni perché a volte ti incappi qua in scelte con persone che non vanno bene per te lo dice proprio chiaro cerca di capire se le persone sono quelle giuste per te guardate che sincronicità di carte che abbiamo avuto anche compresa qua quando ci parlava proprio anche delle persone dei compromessi delle persone eccetera eccetera incredibile questa cosa qui allora la lettura numero 3 deve assolutamente lavorare ancora tanto su di sé sulla propria crescita percorso ma non è un problema perché siamo qui per questo non è che sei diversa o diverso qui sei esattamente dove devi essere qui c'è da lavorarci ancora un altro ha lavorato prima l'altro lavorerà dopo di te quindi non è che è sbagliato questo voglio capire voglio far capire che non è che dici ah io allora non sono brava ah ma allora io non so fare ah ma io ho un anno che prego non è quello è che ancora non è il momento giusto e probabilmente hai ancora delle lezioni che ti ostini magari a non comprendere perché magari ripeti lo stesso schema e sei tu che lo devi diciamo tranciare questo schema no quindi non prendertela con gli altri con gli angeli perché a te non ti ascoltano perché qua o perché là qui siamo solo noi terrestri che sbagliamo la perfezione divina non è toccata da errore l'essere umano sì il terrestre sì è toccato da errore quindi semmai meditiamo su di noi sul perché qualcosa non sta andando solo su di noi non c'entra niente nessun altro quindi mi raccomando forza meditazione continua nel lavoro spirituale perché le tue lezioni le supererai come le hanno superate anche gli altri questo è il fatto chi prima chi dopo non c'è nessun problema anima non scoraggiarti ok grazie mille lasciami un mi piace al video iscriviti al canale io ricordo a tutti chi vuole una rispostina veloce la può fare a fronte di una piccolissima donazione puoi fare una domanda su coffee.com sotto qua nella descrizione del video trovi proprio il link diretto così vai e mi raccomando di iscrivere tutto su coffee non una donazione su coffee poi mi si iscrive su whatsapp o sull'email poi devo rispondere di là o di qua no su coffee comincia e su coffee finisce va bene poi c'è wisio.com dove faccio delle videoconsulenze anche là e per le videoconsulenze più lunghe o comunque sia altri tipi di lavori trattamenti energetici scuole percorsi individuali crescita insieme a me come volete voi andate su quinta dimensionelletture.it mi raccomando se avete una situazione perché non trovate tantissimi particolari scrivetemi un'email perché vedo se è possibile o non è possibile perché non tutto può essere trattato perché lì se no andiamo a prendere in giro cose che da me non esistono quindi se vedete nel sito che c'è qualcosa che non c'è cercate qualcosa e non è per voi forse chiedete prima a me ok esponetemi la situazione via email e vediamo se può essere trattata da me va bene anime grazie 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 davvero di essere sempre qua commentate fatemi sapere sotto condividete il video con chi può insomma a chi può aiutare voi sapete chi magari e vi aspetto presto prestissimo su quinta dimensionelletture per un nuovo video insieme a me ciao a tutti grazie